la stagione estiva segna il ritorno dal vivo anche di levante la cantante ha annunciato sui social le prime date del suo nuovo tour dall'alba al tramonto live che partirà a metà luglio l'artista toccherà dieci città italiane con partenza il 16 luglio dallo sequoie music park di bologna ma il calendario potrebbe allungarsi